Musica Ben trovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni, è un vero piacere avere quest'oggi in studio con noi Luigi Noboito, che è il presidente del Circolo Cultura e Stampa Bellunese, che saluto e ringrazio. Grazie, grazie a voi di avermi ospitato. Tanti argomenti da affrontare, presidente, perché il Circolo realizza tante iniziative, tante attività che coinvolgono la collettività tutta. Partiamo da un tema che a me piace molto, che è quello del teatro e quindi le stagioni di prosa. Le stagioni, perché sono state più di una, non solo in una location, ma anche fuori dal teatro Buzzati, il classico. Sì, nuove avventure, con tanta fatica. Perché l'attività più appariscente è questa, ma per creare un teatro di qualità e intercettare le compagnie che possono venire a Belluno e anche a Ponte nelle Alpi e fra un po' anche da un'altra parte, ci vuole lo studio, la ricerca delle compagnie che possono venire in circuitazione nel Veneto e scegliere le migliori, ma le migliori costano, per cui bisogna anche creare attorno degli appassionati, riempire i teatri, avere gli abbonamenti e anche gli sponsor, altrimenti il teatro non si paga. Ecco, quella di Paiana è stata appunto un po' una scommessa, se vogliamo, no? Un'edizione inedita. Naturale però, perché il Comune Capoluogo ha questo grande teatro importante, però anche la periferia ha la sua dignità, quindi bisogna riconoscere una circuitazione, una promozione. Il Comune di Ponte Alpi ha aperto le porte, ha chiesto di poter gemmare anche lì una piccola stagione nazionale, che ha dato il suo frutto e viene adesso ripetuta con una fecondazione altissima, che poi ne parleremo se vuoi. E' il terzo progetto che l'abbiamo maturato proprio questa notte con un gruppo di lavoro a Posta al Pago, ci sarà una prima edizione del Teatro Popolare Veneto, proprio a Posta al Pago, con cinque rappresentazioni e un concerto dedicato a Vivaldi. In al Pago abbiamo voluto impegnare la domenica pomeriggio perché le famiglie possano uscire e quindi abbiamo scelto il Teatro Popolare Veneto moderno, non quello antico, moderno, con ottime compagnie della circuitazione veneta. Quindi abbiamo fatto rete con i teatri del Veneto. Ecco, e poi naturalmente la stagione di prosa storica al Teatro Buzzati, che cosa possiamo dire su questo? Sì, il Teatro Buzzati, possiamo dire che siamo antichi, nel senso che è la quarantottesima stagione di prosa che il ciclo Cultura e Stampa organizza. Sarà un'edizione eccezionale perché abbiamo scelto, vorrei dire, le migliori attrici italiane, anche quelle che hanno fatto successo in televisione, ma essendo che il pubblico ha bisogno di sorridere, di divertirsi, di riconoscersi in questo specchio vita-teatro, e quindi abbiamo, posso anticipare un paio... Dei prossimi appuntamenti lei sta già guardando, infatti, alla prossima stagione. Insomma è stato difficile poter prenotare Vanessa Incontrada, con la sua equipe, e Ambra Angiolini saranno ospiti al Teatro Comunale di Belluno. Ecco, da rilevare, tra l'altro, anche l'impegno sul fronte delle scuole, quindi il teatro in lingua, per esempio. Il teatro in lingua è quello che dà più soddisfazione perché sono 5.000 i ragazzi che frequentano questo percorso didattico, sono gli istituti delle scuole medie e medie superiori che partecipano a un percorso didattico, diciamo, di partecipazione al teatro in lingua originale, per cui le compagnie vengono di madrelingua, e quindi abbiamo messo in rete Feltre, Belluno, Il Cadore e anche la Gordino. Quindi abbiamo creato una diffusione di queste iniziative che, fra l'altro, raccoglie il consenso anche di alcuni imprenditori che sostengono questa iniziativa perché la considerano quasi un welfare territoriale, in quanto anticipa il fatto che questi ragazzi comincino a imparare le lingue, ad avere dei colloqui anche con gli stessi attori su dei testi di grande rilevanza letteraria, per poi andare nel mondo. Questo è fondamentale appunto. E poi è dell'unica iniziativa nel Veneto. Quindi proposte culturali per la società, per i giovani, per gli adulti, ma una battaglia adesso per cambiare tema, Presidente, sulla quale il circolo è impegnato da tempo, è quello di far fronte alla carenza degli operatori sociosanitari. Voi siete ente accreditato dalla Regione Veneto. Sì, ormai sono 14 anni che lavoriamo su questo aspetto qui. Vorrei sottolineare, ma l'ho già detto più volte, lo rivadisco perché è questa la prima emergenza sociale della provincia di Belluno, non solo la provincia di Belluno, ma per la provincia di Belluno siamo i primi in classifica per questa emergenza. è la mancanza di operatori sociosanitari, circa 250, ma se si considera che anche le persone fragili, disabili o le persone sole hanno necessità di questo tipo di assistenza, di affiancamento, in provincia ne mancano 400. e poi non sono sostenute dai bandi, perché il percorso di operatore sociosanitario è un percorso di qualificazione che costa. in provincia di Belluno, quindi ringrazio la provincia di Belluno, dal Presidente Padrin all'Assessore Lucia Darolt che finora ha seguito questo tipo di percorso, è il BIM, il Presidente del BIM, il Segretario Savaris che ha condiviso questo tipo di iniziativa, stanno dando un contributo per far sì che ci siano dei percorsi aiutati. Allora, questo percorso aiutato, veniamo al dunque, noi partiamo adesso a giugno con un nuovo corso di operatore sociosanitario abbiamo circa 38 candidature, una volta selezionate ne resteranno una quindicina di donnei e sarà il terzo corso che faremo quest'anno per dare una soluzione positiva, cioè una goccia in un mare però almeno questo è possibile fare. c'è un disegno però più importante, ho visto che ieri sera hanno dato le deleghe in provincia sarà opportuno di cominciare a lavorare presto per fare un accordo di programma che duri almeno tre anni, dove garantire l'inclusione di persone che vengono dall'estero quindi extra comunitari, per dare residenza, ospitalità, un sostegno welfare e un corso gratuito al fine di creare una soluzione di sistema. La Lombardia questo lo sta facendo con Bertolaso Fontana, sono andati in America Latina, hanno prenotato 500. Io sto spingendo perché ci sia un accordo di programma con il Ministro degli Esteri, Antonio Tagliani per avere le ambasciate che aiutino a questi ingressi su una professione che non è considerata fra le più favorite. Andiamo veloci perché sono tanti gli argomenti, spazio nuovamente alla cultura con un nuovo progetto che va ad omaggiare quello che è stato certamente un talento una figura femminile della nostra realtà italiana, Eleonora Duse. No, Eleonora Duse è stata la grande, divina, la più grande attrice che ha avuto l'Ottocento e quest'anno ricorre il centenario della morte. No, no, io ho preso un pezzo di questa vita della Duse, che nasce il 14 maggio del 1874 quando la Duse, ospite di alcuni amici al ristorante Cova di Milano, reduce da un successo teatrale, viene invitata a questa cena attorno al quale a questo tavolo ci sono attori, ci sono giornalisti, scrittori come Giovanni Verga, ma anche musicisti come Arrigo Boito. Durante quella cena Arrigo Boito resta affascinato dalla bellezza della Duse, probabilmente anche dal talento e dopo 36 ore gli manda un volantino che lui girava, rivoltava nella mano e gli dice che è rimasto esterefatto e dice anche che non è obbligatorio che lei risponda, invece lei non solo risponde, ma lo provoca. E da qui, da lì, nasce questo sogno d'amore, ma anche artistico, di un carteggio che durerà per dieci anni. E quando nel gennaio del 1875 il rapporto si interrompe con un addio, lui scriverà Eleonora per me è stata più che la morte, è stata più della vita. Quindi vuol dire che è stato intenso, enorme. Certo, una figura che l'aveva davvero preso e quindi il circolo che cosa farà per omaggiare, diciamo, anche questa storia, possiamo dire così. Intanto dobbiamo partire perché il circolo Boito Duse, ma perché Boito Arrigo col fratello Camillo sono figli di Silvestro Boito, Silvestro Boito nato a Polpet, c'è la casa natale, il comune ha acquisito metà di questa casa che diventerà patrimonio artistico, cioè un archivio di letteratura, musica e altro. E quindi da lì il circolo, come tu sai, ben sai, ha sempre valorizzato i talenti dal nostro territorio. Abbiamo cominciato con Dino Buzzati, siamo andati avanti con Piero Rossi, adesso facciamo Silvestro Boito, padre di Arrigo e Camillo e poi un domani sarà Franco Fiabane che il prossimo anno ricorre i dieci anni della morte, che dopo Murer è stato il più grande scultore di pietra e di legno che il territorio ha avuto. Quindi partiamo dal valorizzare i talenti del nostro territorio e da lì inventiamo una storia. Questa bellissima storia è possibile vederla, gustarla, capirla, è perché è stata la fondazione Cini, Giorgio Cini che è proprietaria dell'archivio storico dell'eredità Giacosa Albertini, cioè Boito ha lasciato il tutto all'amico Pinciacosa e la famiglia Albertini che l'ha donata allo Stato italiano e proprietaria adesso di questo archivio bellissimo, è la fondazione Giorgio Cini che ha consentito di lavorare col circolo e di portare e di affidare al circolo parte del loro patrimonio. Con il sostegno Regione Veneto, se no non è possibile fare, quindi grande evento della Regione Veneto, Assessore della Cultura, Zaia eccetera. E la Camera di Commercio Belluno Treviso che ha detto sì, Belluno va bene ma anche mettiamo dentro Vittorio Veneto, Treviso e un altro comune che così facciamo rete. E quindi abbiamo prodotto, stiamo per produrre tre rappresentazioni teatrali dedicate alla Divina con Boito, presenteremo un film della Divina Cenere, film muto che andrà anche al Festival di Venezia e un film su Arrigo Boito che durante la pandemia non ha potuto circuitare, quindi c'è cinema, teatro, mostra, produzioni teatrali, quindi è un teatro interdisciplinare che per due mesi, quindi da novembre ai primi di gennaio di quest'anno sarà ospitato al Fulcis, ma anche altre attività come Ponte nelle Alpi ci saranno due produzioni originali. Quindi un grande momento culturale. Sì. Presidente, noi seguiremo tutte queste iniziative e continueremo naturalmente a scoprire anche queste personalità del passato così affascinanti seguendo le attività del circolo. Purtroppo il nostro tempo è finito, dobbiamo chiudere. Buon lavoro Presidente. Anche a voi, grazie. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.